www.mesmerism.info 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 Sto filmando il coso la 737 Ma vaffanculo Allora Batteria Fasione pompa Ok Via dell'helica Un, due, tre Perché dici via da lei? Ok Bellissima Gagorio Gagorio Brato Fasione 8-8, 2-9 Sì, mi approvo il corso Ronde 3, interviso, la diretta a Castellanco ho provato a mille piedi, autorizzato al decollo 2-5, vento calmo Sì, siamo in cassa Tango Valls, interviso traffico per passo 2-8, evidente a decollo 2-5, diretta a Castellanco Sì, siamo in cassa, pompa chazza Passiamo a chazza Luca, fai una virata, di qua Ok, va bene Patrizia, Patrizia Ok, gira un po' verso la sinistra, la destra A Fondio con la torre di Treviso, 117, attenzione Grazie, 117, buonasera Treviso, torre, lignano, frontale Non abbiamo un problema Giù il carrello Giù i flaps Giù i Trader Grazie a tutti.